Si insedierà domani mattina il nuovo capitano che guiderà la compagnia carabinieri di Agropoli, Fabio Lagarello. Lascerà invece la comunità cilentana il capitano Francesco Manna, originario del Cilento, precisamente di Cardile, per raggiungere la capitale, dove prenderà servizio presso la direzione centrale dei servizi antidroga del Ministero dell'Interno. Quattro anni di intenso lavoro su tutto il territorio hanno visto il capitano Manna impegnato ad eseguire molteplici attività atte a contrastare la criminalità organizzata. Basta ricordare l'operazione contro l'annullamento del clan Dolce Marotta Cesarulo, residenti nel comune agropolese. Il clan Rossi, che aveva il controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti sui territori di Capaccio e Pestum. Numerosi tra l'altro arresti per reati finanziari, usura, ricettazione, stalking, maltrattamenti in famiglia, furti sull'intero territorio di competenza. Operazioni delicate che hanno portato all'arresto di 532 persone, tra cui 127 per spaccio di stupefacenti, 124 per furto, 8 per estorsione e 20 per rapina, con ben 75 in associazione per delinquere. Un lavoro complesso ma determinato che il capitano Manna, insieme ai suoi uomini, ha portato avanti in quattro anni nel comprensorio cilentano e che sicuramente sarà ricordato nel tempo. Al capitano Francesco Manna dalla redazione di Cilento Channel vanno i migliori auguri per una carriera ricca di successo e grandi risultati.